Buongiorno Daedo, prima di iniziare con la puntatina di oggi, martedì 5 dicembre, che sarà un pochino spiacevole anche perché dovremo parlare di layoff, quindi di licenziamenti, di persone che perdono il proprio lavoro, tra l'altro ci riguarda anche un po' come italiani, riguarda un po' anche l'Italia, poi lo vedremo naturalmente il round più grande e più noto, magari l'avrete sentito, riguarda Spotify, ne parleremo, ma prima piccolissimo spazio promozionale, la promo di un episodio di Continuous Delivery che faremo stasera, nel tardo pomeriggio, alle 5, full remote, quindi puntata extra non registrata in studio e credo che potrebbe interessarvi perché parleremo con Emanuele Stoppa che lavora in Astro Technologies, che sono quelli di Astro, il framework JavaScript Astro, lavora un po' più sul back-end, quindi capiremo un pochino meglio quali sono i meccanismi che stanno alla base di Astro, come è stato realizzato, come funziona, magari quali sono i piani presenti e del prossimo futuro, insomma, di questo framework, credo che sarà piuttosto interessante. Quindi se volete saremo live su canali di Continuous Delivery alle 5 di questo pomeriggio, oppure insomma da domani ci troverete in podcast per ascoltarci quando volete sulle vostre piattaforme preferite. E ora partiamo con la news. Allora, dobbiamo iniziare da Broadcom e VMware, perché ne avevamo parlato brevemente qualche puntata fa, sapete che Broadcom ha tentato di acquisire, di acquistare appunto VMware e questa acquisizione era stata un po' rallentata, soprattutto dalla risposta negativa della Cina, che si era opposta a questa acquisizione. Bene, qualche giorno fa la situazione si è sbloccata, si è sbloccata e quindi ora ufficialmente, come trovate sul sito di Broadcom, broadcom.com.info.vmware, VMware entra ufficialmente a far parte della megacorporazione di Broadcom e quindi l'acquisizione è stata portata a termine. Se vi interessano tutti i dettagli, insomma non ve li sto a raccontare, li trovate proprio sul sito di Broadcom. Ma perché vi racconto di questo? Quando vi ho detto che dobbiamo parlare di layoff, bene, perché in seguito al completamento di questa acquisizione Broadcom ha anche annunciato dei tagli, dei layoff. Qui sono su Business Insider e si parla appunto di questo round di licenziamenti. Quindi vado un po' a leggere, lunedì, quindi lunedì della settimana scorsa, alcuni impiegati di Broadcom hanno così ricevuto questa email in cui venivano informati del fatto che le loro posizioni sarebbero state tagliate, sarebbero state eliminate. E si ripercorrono un po' i passi dell'acquisizione. Broadcom aveva inizialmente annunciato di voler acquisire VMware nel maggio del 2022 per una cifra di 61 miliardi di dollari e la volontà di volersi accollare i debiti netti per 8 miliardi di dollari. E il 22 novembre è stato appunto dichiarato che l'acquisizione è stata conclusa dopo aver ottenuto il via libera dalla Cina. E naturalmente c'era già stato via libera anche delle altre autorità, quelle statunitensi e quella di UK. Quindi si parla poi della email ricevuta dagli impiegati lunedì. Non ve la leggo tutta, si conclude un po' con queste parole. Ci dispiace informarti che la tua posizione è stata eliminata e il tuo stato di impiegato verrà terminato. Sono parole anche un po' freddine, no? Però così si esprime Broadcom. Attualmente non è chiaro esattamente quanti impiegati di Broadcom saranno appunto impattati da queste riduzioni e si sa che VMware fino a febbraio di quest'anno consisteva in circa 38 mila dipendenti e poco prima della chiusura dell'acquisizione aveva già iniziato a tagliare qualche posizione. Quindi insomma questa è la prima dei tre round di layoff che andiamo ad analizzare oggi. Il secondo come dicevo ci riguarda un pochino perché riguarda Bending Spoons che è un'azienda italiana con sede a Milano. È un'azienda che investe in applicazioni mobile, realizza applicazioni mobile, acquisisce studi che realizzano applicazioni mobile o applicazioni già pronte. Insomma ormai possiamo dire che è una multinazionale anche con le ultime acquisizioni che ha fatto. Ve la ricorderete forse per l'acquisizione di Evernote. E poi forse vi ricorderete anche che Bending Spoons è stata l'azienda che ha realizzato l'app Immuni. Vi ricordate dell'app Immuni? Forse l'avete già cancellata dalla mente. Pare un'epoca remota. In realtà era il 2020. Insomma Immuni realizzò l'app che poi donò al governo italiano che non seppe, bisogna dirlo, sfruttarla degnamente. Comunque Bending Spoons sono questa azienda di applicazioni mobile. Tra l'altro sono tra le prime aziende mondiali per fatturato derivato dalle app mobile. Quindi non malissimo. Allora perché parlo di Bending Spoons? Perché un'altra delle aziende che Bending Spoons aveva acquisito che si chiama Filmic, che è un'app per realizzare proprio i filmati, è sfruttata anche in ambito cinematografico, quasi autoriale, quando i budget non consentono grosse attrezzature. Ecco, ci sono alcuni autori che utilizzano gli smartphone e Filmic appunto che gli consente di avere controllo sulle telecamere e tra l'altro facevano anche un festival dedicato proprio ai cortometraggi e lungometraggi realizzati con Filmic. Vabbè, questo è un po' per descrivervi che cos'è? Filmic, ebbene, l'annuncio proprio è che Bending Spoons ha tagliato completamente tutto lo staff dietro Filmic dopo averla acquisita. Incluso anche il CEO di Filmic che si chiama Neil Barham. Quindi erano 22, 22 le persone del team originale di Filmic e ora Filmic è completamente stata integrata dentro Bending Spoons e tutto il personale è stato tagliato. Filmic era stata comprata nel settembre dell'anno scorso, quindi 2022, dopodiché Bending Spoons aveva alzato un pochino i costi delle subscription mensili, un po' come aveva fatto con Evernote, questa è un po' la strategia e tra l'altro anche in caso di Evernote poi un po' del personale era stato tagliato. Si parla poi quindi nell'articolo che ho trovato su The Verge un po' di che cos'è Filmic, Filmic Pro, degli accordi con Apple, insomma di un po' di dettagli interessanti dietro a questa app, ma la notizia che volevo darvi appunto era del layoff, insomma del fatto che Bending Spoons si prende anche il secondo posto nella sfortunata classifica di oggi dei layoff di cui andiamo a parlare e ora passerei al terzo e più ciccioso, cioè quello di Spotify parto da The Register che titola il 17% degli impiegati di Spotify verranno tagliati in una manovra che mira a tagliare i costi. Insomma questo è il terzo e il più grande round di layoff di quest'anno tagliando il 17% degli impiegati anche se c'è stato recentemente l'annuncio del quarter del Q3 2023 che in realtà ha mostrato dei segni positivi nel bilancio. Insomma il CEO Daniel Ek ha mandato una lettera interna allo staff dichiarando appunto di questi questi tagli. Si parla quindi del Q3 2023 che era il primo quarter in realtà in profitto di Spotify dopo diverso tempo e peraltro i 65 milioni di euro di profitto di questo Q3 sono stati proprio attribuiti al fatto di aver ridotto i costi operativi dopo i tagli di gennaio di quest'anno e di giugno di quest'anno e anche all'aumento dei prezzi che c'è stato in luglio. A gennaio c'erano stati un po' di tagli generali in varie posizioni nella compagnia, a giugno c'era stato un taglio più mirato nel team dei podcasting. Allora Ek ha inoltre giustificato questi layoff dicendo che c'è un gap tra l'obiettivo finanziario e i costi operativi che ha fondamentalmente attribuito al fatto che Spotify sia cresciuta molto e troppo velocemente durante la pandemia. Come succede poi in molte altre aziende quando voi vedete tante notizie di layoff in questi mesi, in questi anni sono molto spesso seguite a un rigonfiamento del personale proprio durante e subito dopo la pandemia quando c'era un po' troppo entusiasmo forse nel vedere le percentuali di crescita alzarsi e quindi una crescita anche del personale forse non giustificata e fondamentalmente Spotify fa questo. Ek ha riconosciuto che la compagnia si è gonfiata un po' troppo e quindi va a ridurre il personale che secondo lui è in eccesso. Dice in questa lettera interna abbiamo ancora troppe persone che fanno del lavoro in supporto, quindi supporting work e addirittura che fanno del lavoro intorno a dell'altro lavoro. Non so bene a cosa si riferisca però fondamentalmente persone che non hanno un reale impatto misurabile, mettiamola così e quindi devono diventare un pochino più snelli. The Register commenta quest'ultima frase dicendo praticamente abbiamo sbagliato ad assumere troppe persone e quindi anche se al momento i costi sono sotto controllo e questo è grazie soprattutto a quello che avete fatto tutti voi tutti voi implicati però questo non è abbastanza e quindi arrivederci. Purtroppo va anche un po' così e naturalmente per quelli che rimangono in Spotify ci sarà da cambiare un pochino la modalità di lavoro perché il personale si riduce parecchio però insomma questo potrebbe dire anche una una volontà di essere un pochino più snelle un pochino più veloce. Tra l'altro l'ultimo commento dell'articolo di The Register è proprio il ma perché è proprio adesso che ci sono le festività è un po' spiacevole che proprio prima del Natale arriva questa questa brutta notizia agli impiegati ma un portavoce in Spotify ha detto che questo viene fatto in un momento di forza di potere finanziario in modo da agevolare anche l'uscita proprio il periodo successivo all'uscita per questi che vengono che vengono licenziati e poi vedremo anche come mai infatti se voi andate su sulla newsroom di Spotify quindi sul elenco delle news del sito ufficiale di Spotify trovate tutta la lettera interna se volete leggerla io non lo farò di Daniel Eck ai dipendenti segnalano giusto una cosa interessante cioè cosa viene garantito agli impiegati che sono stati oggetti di questi tagli vengono garantite fondamentalmente queste cinque cose cioè la buon'uscita quindi cinque mesi di buon'uscita poi verranno pagate tutte le ferie non utilizzate verrà garantita l'assicurazione sanitaria per tutto il periodo della buon'uscita verrà garantita supporto a chi aveva bisogno di insomma documenti per l'immigrazione tutti quelli che sono andati a lavorare in Spotify venendo da paesi extracomunitari quindi avevano bisogno di documenti carte particolari e poi viene garantito quello che viene chiamato career support cioè viene dato supporto agli impiegati che stanno fuoriuscendo nella ricerca di un nuovo lavoro queste sono le cose vado a cercare qualche altra informazione su altri siti su ars tecnica trovo l'articolo che ne parla a questo punto si va a parlare di risultati finanziari e si dice proprio che questo taglio avviene dopo gli altri due tagli di quest'anno che hanno escluso circa 600 persone all'inizio 2023 e altri 200 proprio quest'estate e anche si va a mettere in luce la questione dei podcast cioè nello scorso anno Spotify ha cancellato un certo numero dei suoi podcast dei suoi show che includono anche tra l'altro un po' di serie true crime che oggi in Italia apparevano andare per la maggiore e l'azienda ha speso moltissimo podcast esclusivi fatte da celebrità come per esempio quello di Michelle e Barack Obama e un accordo con quelli che qua sull'articolo sono definiti il duca e la duchessa di Sussex per 25 milioni di dollari in 12 episodi non so perché non li chiami con il loro nome il duca e la duchessa di Sussex sono il principe Harry e Meghan Markle ma vabbè questo un dettaglio e inoltre c'è questa frase nell'articolo che secondo me però è molto importante e andrebbe forse evidenziata di più dice l'investitore value act in febbraio ha acquisito una certa percentuale in Spotify e ha alzato preoccupazioni insomma ha dichiarato la sua preoccupazione per le spese che stanno esplodendo insomma per spese che sono esplose in Spotify quindi vedete l'intervento di qualche investitore preoccupato dai dalle spese eccessive e dal poco profitto di Spotify azienda ricordo che Spotify anno su anno non è un'azienda che genera profitti però nel Q3 di quest'anno ci sono stati quindi scavando un po' di più la ricerca di questi numeri di questi profitti sono capitato proprio sull'articolo di The Verge che ne parla che va a citare il Wall Street Journal allora dice questi layoff sono appunto arrivati dopo che Spotify aveva incrementato troppo il suo parco dipendenti durante la pandemia praticamente raddoppiando di dimensioni negli ultimi tre anni e il Wall Street Journal nota che proprio gli investitori stanno costantemente spingendo verso la profitability quindi la capacità di Spotify di generare profitti in questi in questi anni quindi la spinta degli investitori è un dato importante da tenere a mente ed ecco qui in conclusione che anche se la compagnia ha appunto annunciato un profitto nell'ultimo Q3 nell'ultimo quarter il Wall Street Journal nota sempre che ha riportato una perdita di 462 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno quindi insomma i soldi sono un fattore importante a tenere in considerazione nelle decisioni della ristrutturazione aziendale soprattutto quando si deve rivolgere agli investitori ultima nota sempre rimango su The Verge e c'è la notizia della cancellazione di uno dei podcast più seguiti nel panorama diciamo dei podcast in inglese che è heavyweight era heavyweight forse vi ricordate che Spotify aveva acquisito Gimlet che era una che è una società che produce podcast heavyweight era uno dei podcast di Gimlet più prestigiosi ecco ebbene è stato ora cancellato quindi ora terminerà la stagione in corso e poi verrà semplicemente cancellato e tutte le persone che sono dietro la realizzazione di heavyweight verranno mandate a casa in questo in questo caso nell'articolo poi ci sono un po di numeri sull'acquisizione Spotify Gimlet quindi era un'acquisizione che è costata Spotify 230 milioni di dollari ma appunto poi Gimlet non è riuscito a produrre degli show che abbiano portato un vero valore a Spotify e tra l'altro ha perso uno dei suoi dei suoi podcast di punta che si chiama reply all perché c'era stato un caso tra gli un co-host PJ Vogt e il producer Shruti Pinnameni se volete cercare questi nomi per capire qual era il caso attorno a questa cosa qua fondamentalmente erano stati accusati di comportamenti discriminatori ecco e vabbè adesso Spotify si sta concentrando sta un po' diciamo eliminando i podcast più valevoli dal punto di vista narrativo culturale e sta puntando invece su podcast che come abbiamo visto coinvolgono di più le celebrità magari degli one man show magari delle delle chat che sono anche poco costose da produrre come per esempio il Joe Rogan Experience e Call Her Daddy un altro show di Gimlet che era molto prestigioso che si chiamava Stolen che aveva anche vinto un premio Pulitzer è stato cancellato questo chiude un po' il giro di notizie sui layoff e ora in particolare su Spotify ricordo 17 per cento dell'intera forza lavoro di Spotify lasciata a casa purtroppo adesso vedete anche un po' di ristrutturazioni sugli investimenti di Spotify quindi toglie un po' alla parte podcast su cui aveva investito molto su cui aveva creduto molto cancella un po' di show riduce un po' gli investimenti vedremo come andrà nei prossimi tempi nei prossimi mesi chiaramente questa sarà una delle notizie che su cui magari torneremo più spesso a seguire a vedere come va allora visto che abbiamo parlato un po' di aziende di mercato di soldi c'è una ricerca interessante che vado a segnalare in breve in chiusura di puntata è una ricerca che ha pubblicato un economista di Stanford che parla del return to office quindi quella tendenza delle compagnie a richiamare i propri dipendenti in ufficio a seguito ovviamente del work from home dello smart working così impropriamente detto in Italia seguito alla pandemia ebbene c'è uno studio che fa vedere come la percentuale di lavoratori richiamati nelle aziende ora si è fondamentalmente stabilizzata cioè vedete questo grafico per chi sta guardando i lavoratori che lavoravano che sono stati lasciati a lavorare a casa durante la pandemia avevano raggiunto il 60 per cento poi questa naturalmente si è iniziata un po' ad abbassare nel 2021 e anche nel 2022 era scesa un pochino adesso già da un anno praticamente la percentuale di lavoratori richiamati in ufficio è rimasta costante siamo intorno al 28 per cento e non ci sono segni che si muova particolarmente su e giù quindi questa ricerca va a dire fondamentalmente che abbiamo raggiunto un valore stabile ecco più o meno l'industria rimarrà su questo non ci saranno più grosse non dovrebbero più esserci grosse campagne di richiamo dei lavoratori verso gli uffici ma si rimarrà in questa situazione anzi potrebbe un pochino aumentare la percentuale dei lavoratori che lavorano da casa perché c'è un po' di ricambio generazionale anche nelle imprese ci sono nuove imprese che nascono nuove startup il management di queste startup è più giovane è più abituato a pensare che il lavoro da casa sia una cosa fattibile e quindi ci sarà probabilmente un incremento man mano che questo ricambio generazionale ci sarà ci sarà anche un incremento in questo in questo fattore alcuni dati interessanti sono anche sulla diversità del work from home e del remote working appunto adottato dalle aziende perché non è uguale in tutte le aziende per esempio il 7% dei lavoratori devono andare in ufficio un giorno a settimana il 9% due giorni il 13% tre giorni l'8% quattro giorni insomma vedete che ci sono dati diversi e naturalmente ogni azienda applica la propria policy quindi vi voglio raccontare un po' questo se volete altri dati su questa ricerca e anche dei sondaggi interessanti il sito è CNBC la notizia si chiama Return to Office is Dead quindi la trovate abbastanza facilmente per approfondire ancora di più prima di salutarvi vi segnalo due link che ho trovato interessanti magari vi interessa anche a voi leggerli il primo è sul blog di Troy Hunt che è il creatore di Have I Been Pwned non sto ora a descrivervi che cos'è dovreste conoscerlo tutti insomma ha scritto un lungo post che si chiama A Decade of Have I Been Pwned quindi va a ripercorrere la storia della creazione della sua creazione di Have I Been Pwned e quello che è successo in questi dieci anni perché sì sembra incredibile ma Have I Been Pwned ha dieci anni e quindi in questo post appunto Troy Hunt va a ripercorrere un po' la storia e quello che è successo in questi anni con questo sito quindi se vi interessa il sito è Troy Hunt.com trovate A Decade of Have I Been Pwned e la seconda cosa che vi segnalo è Noislit trovate su Noislit.com lit scritto con TH finale mi raccomando che è un client, è un software per Stable Diffusion XL ed è un all-in-one, un pacchettone insomma potete semplicemente scaricarvi questo software per Windows, per Mac, non mi ricordo se c'è anche per Linux no il sito dice solo Windows e Mac comunque avete un software dove dentro gira Stable Diffusion quindi in un eseguibile e avete il prompt da dargli con anche un'interfaccia che vi consente di specificare anche le opzioni da passare appunto al modello e questo poi vi genera l'immagine quindi in un client semplice da scaricare e installare avete il generatore di immagini Stable Diffusion con cui potete appunto giocare un pochetto e generare le vostre immagini ve lo segnalo perché magari potrebbe essere interessante per qualcuno di voi anche andare a dare un'occhiata questo era un po' per segnalarvi un paio di link senza approfondire troppo, non solo news un paio di link che ho trovato interessanti boh, così e ho davvero chiuso grazie per avermi seguito anche oggi vi ricordo di nuovo l'appuntamento con Continuous Delivery stasera alle 17 live o se no da domani in podcast dove volete parleremo di Astro con Emanuele Stoppa niente, ho finito davvero grazie a tutti e alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti